Correa in area di rigore, un rimpallo e il gol! Il gol di Correa, di rimpallo alla mezz'ora esatta e la Lazio si porta in vantaggio. Gol, Ducu Correa, in un momento di grande spolvere l'argentino, sono sette per lui in campionato. Va a controllare tutto l'arbitro Giacomelli e allora Immobile può partire per il calcio di rigore, guarda Perin, il destro, Rete! Perin, spiazzato Perin, di potenza, alla destra di Perin, pallone a mezza altezza, la Lazio raddoppia con Giro Immobile al quarantatresimo minuto. Lazio 2, Genoa 0 per Giro Immobile. Vediamo il Genoa nel frattempo, prima sortita offensiva, attenzione, subito pericoloso, il Genoa e c'è l'autogol! L'autogol di Marusic che riapre la partita, ha segnato il Genoa subito con Ghiglione protagonista. L'avanzato, c'è Luiz Alberto, la piazza, Rete! Strepitoso gol di Luiz Alberto. Al terzo minuto della ripresa la Lazio risponde subito. Dopo l'autogol di Marusic, splendida esecuzione da parte di Luiz Alberto, con l'interno destro, pallone quasi sotto l'incrocio. Si guarda intorno, c'è Luiz Alberto, Luiz Alberto lascia Correa, c'è l'alza di da solo, Correa convergia, tiro, Rete! 4-1, altra doppietta del Tucco Correa! A distanza di pochissimi giorni, lunedì scorso, doppietta a Milan, oggi doppietta a Genoa, all'undicesima della ripresa. Giocatori fuori, allineati ai 16 metri, parte Scamacca, il tiro, Rete di potenza, pallone sotto la traversa. Nulla da fare per Reina, 4-2, c'è ancora speranza per il Genoa quando siamo al 35esimo minuto nel corso della ripresa. Attenzione Fornetta perché qui si riapre tutto, ha segnato Shomurodov, Lazio 4 Genoa 3, sembra il bis di Lazio Benevento. E c'è tutta una partita in questi ultimi nove minuti più recupero a te.